Sochi 2014 dopo le prove veloci è arrivato il momento della danza tra i pali a cominciare dalle porte larghe. Penso che quando arriverò la gara sarà sempre gara, neve sarà sempre neve, pari saranno sempre rosse e blu e quindi tutto l'altro intorno non mi interessa tanto. Se sci come bisogna sciare non c'è niente che ti può fermare. Si decide il gigante olimpico, Tina Magna un vantaggio enorme, 85 centesimi non è certo una che si spaventa, già campionessa olimpica di discesa che si gioca a punto, 61 centesimi bravissima, sta gestendo bene. Ho perso due medaglie per un diecimo, lo vincerò per un diecimo, no? Fortuna sempre giro. 14 centesimi si sta giocando, la medaglia d'oro, Tina Magna, seconda, due decimi, vittoria Revesburg, ultime porte del gigante olimpico, 2,36 e 94, arriva Tina Magna di 35, 36 e 87. Bravo! Tina Magna, la nuova campionessa olimpica di gigante, 7 centesimi su Anna Penninger. Queste emozioni arriveranno dopo, dietro di me, quando avrò tempo di ripensare tutto quello che è successo. Non ho parole, ho in mente solo questo video che abbiamo fatto con Sky TV, che voglio fare un passo avanti e ce l'ho fatto, ecco. veramente ho sentito qualcosa che non l'ho sentito mai. è solitato mai. Grazie a tutti.